Io penso che questa esperienza parte da Prima Valle. Perché parte da Prima Valle? Prima Valle è un quartiere particolare, che io amo in modo speciale. Non l'hai mai visto qua? Non l'ho mai visto. Chi ci ama tanto questo quartiere? Eh, siete andati là sotto alla Scarpata? No, la Scarpata a Bembo. No. E' pieno di là, c'è il boschetto. Vado a vedere i zingari e le case che ci stanno. Non l'ho mai visto qua. Perché lui dice che è venuto qua oggi perché ama questo quartiere, lo conosce, sta sempre qua. Prima o dopo elezioni? Non l'ho mai visto. Appunto. Però, insomma, da dieci anni sto qui. Io ho 17, comunque non l'ho mai visto. Ecco, lei ancora di più non l'ha mai visto? No, no, ma non l'ho mai visto. Io non l'ho mai visto. Vado a me conoscere di quel signore che è lui. Chi è sto signore? Il futuro candidato sindaco di Roma per il PD. Ah, futuro. Alle primarie. Come si chiama? Morassù. L'ha mai sentito? No. Roberto Morassù. Roberto Morassù. Invece da venire qua! Andassi alla mia amica leaponelli alla ammunnezza che ci sta. e nessuno ci passa le convince per le elezioni comunali abbiamo trovato questo sindaco? no non ci convince nessuno dei candidati? no 5 stelle la convince 5 stelle sicuramente sì, sempre finché non arriverà che poi li sputtanano tanto non li voterò più